Potrei stare così per ore perché sono un artista e me lo posso concedere. In un mondo dove al massimo si può essere con domini, io ho scelto di essere, come direbbe Nietzsche, diventare ciò che si è. Potrei stare ore così. Essere un artista. Quasi quasi ci rimanco. Mentre tu vai alla circoscrizione a chiedere l'estratto integrale di nascita oppure a comprare le foderine dell'auto, sappi che c'è qualcuno che ha scelto di essere un artista. Ma le foderine o i tappetini dovevate comprare? meraviglioso non essere compresi. Te le due roti.